Grazie a tutti Grazie a tutti Tutti insieme Tutti insieme Ora ti arriva un'altra ancora Scusi lei, non corra Come è stata l'ultimo chilometro ieri? Emozionato E ci stiamo Siamo in gara così Vediamo una camera Vediamo cosa avete corso Grande tifo per lui Anche son maso Mamma mia è pubblico Che pubblico Grazie a tutti Sembrava quasi la scena di Rocky Il pubblico fa una domanda Ma il chip L'abbiamo ricostegnato o no? Io spero di inserire Non lo ricordo Scusi Io non me lo ricordo Siamo in classe Sì Speriamo Via Andiamo Che strategia stai usando Che strategia stai usando Per entrare all'ultimo Che strategia stai usando per entrare all'ultimo? Quella ha un miso da nizzi perché Mi fa freddo Ma vieni con noi Ma vieni con noi Guarda i movimenti C'è già l'avvicinamento Via Andiamo 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 Faremo già Febricità E la domanda è Mi fermo in bagno o no? Te minimo 5 volte Manneri vai pitstop Lo inquadreremo solo così Dai Vieni anche te lì dietro Dai Ma vieni Ma è l'unica Non entri in griglia Mancano due minuti Ancora girella Come uno spettatore Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Partita La trentaduesima Edizione Della Firenze Marathon Vai Vai Grazie alla prestazione Da Vardelle Una maradona Velocissima E' la trentadurana Incredibile Abbiamo già preso i cinque minuti Rispetto alle altre persone Guardiamo Vai Vai Iniziamo a correre Per quattro ore circa Guarda quante belle e faccine Tirare una bella sberra collettiva Due Due A pilota Fanno piana Fanno piana Fanno piana Hanno avuto Ordine alla scuderia Andare più piana Grande lui Grande lui Era il passo Guardaぎ E' un passo Sì Sì Guarda E' un passo Sì Guarda Perfetto, perfetto, ricordiamo che stiamo davanti a farlo girare 3.30 e perché non gireresse S'arriva eh? Tagliamo, ci sarà un mio punto di controllo, c'è il casino ma vediamo chi c'è Allora, nessuno Nessuno ancora Nessuno, nessuno oltrata Quindi abbiamo? Ecco, è già stanco? Oh ya! Arriva, arriva, ne arriva uno Ne arriva uno, e lui arriva Situazione, Lorenzi si stima di essere in prima posizione A questo punto, secondo, Bosolo Barra Cir Un pervenuto però, sarebbe già lì Terzo e quarti, qui c'è un podio, si guarda Dietro abbiamo i due, che sono avidi d'oltrarno Ma che da tanto non correvano E Barbani, che è in grande spolvero, che arriva da dietro Tutto pesto al chilometro, sei, compasso, quattro e c'è quattro Buonissimo La spugna, la spugna veloce Sento Laura di Barbani dietro, lui ci ha visto, quindi accelera ora Passaggio ai 10 Tempo, forse, superiore alle nostre aspettative Iniziano a mettere più le doppie La faccio per i rumori Come si chiama l'amico, amico, amico di partner? Alessio, piacentini! Emilio! Impegnati! Arrivano Chi? Chi l'ha visto? Inquadralo Catani, Catani! Passami sotto! Manneri vai beatstop Lo inquadreremo solo così Nel frattempo, Barbani Dal gran filibustiere Ci ha superato Rifiglialo Bisogna attaccarlo ora Andrea è vicino, hai visto? Bravi, bravi Che buon tanto Analisi dei 15 Barbani ha superato il pit stop e non si ripila più Ora si aspetta solo che arrivino le persone da dietro Da qui in poi non si va a vela Unissimo infreddolito è tipico finalmente si va a tavola oh no mi sono passato i biscotti e non li ho presi si può tornare indietro? stiamo alla mezza moglie di Uges per la corona comunque dicevamo l'obiettivo era cosa hai scritto? 1.48.30 guarda il nuovo scarponcino guarda quale è non mi ha visto no no ce l'ho già secca gran neri che siamo lontanissimi ma dov'è? dietro di poco? ma Maurizio dov'è? ahia lavora anche oggi quel lavoratore guarda lì i guanti non fanno rumore insonorizzabili dove sono le nostre ragazze? eccole cosa siamo? oh si mangia proprio così sì eh ah 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 mmmm mmmm come si fa? si fa a mangiare? mmmm bevi questa bomba la bomba il vino dalle bicchieri di vino questa è una buona dalle panche sali potentissimi guai perché tutto tutto quanta gente viene intorno buongiorno allora come va? io mi fermo dalla forma in cui sono mi fermo anche oggi davvero si sta molto meglio e siamo terzi dell'oltrarno mi sembra qui perché è passato è passato ora manca Cirri no Cirri è fuori gara è fuori gara ma lo ripi lo mangio oggi siamo in discesa addirittura ora è una discesa unica guardate guarda anche lui come viene incredibile è un grande grazie grazie ecco un'immagine della fermo oggi oggi me la sento bene ok comunque siamo sempre sotto le 3 45 gli alleati così in corsa prima volta? oh chi c'è? un sale un sale no niente no più sale davanti va bene mi piegherò al te oggi grazie dai 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 bravi ragazzi bravi sacchete vai spintami spintami guarda lì, laizzatore ci vorrebbe una friola qui siamo agli ultimi due chilometri Francesco un po' in crisi ma il personale viene lo stesso andiamo dietro, nessuno palloncino laggiù attenzione l'incubo non viene dal Neri, né da Catani, da Piacentini ma dai palloncini li può bucare vediamo se si può ancora fare mancano veramente 3 chilometri allora qui l'anno scorso finì la batteria quest'anno sono al 10% quindi insomma sempre male sti Samsung allora il professore è lì, forse l'ultima visione di lui abbiamo la lotta Francesco è palloncino ha un tallonamento è un lì lì lui non lo sa che sono lì dietro ma forse ce la può fare c'è veramente un dirittone bassa andiamo stai ragazzi stai ragazzi stai ragazzi stiamo andiamo da qui all'ultimo minuto via i palloncini sono andati ma noi non badiamo a quello adesso badiamo al tempo reale e dovrebbe essere scritto sotto 3.45 che sarebbe un grandissimo personale qui ci siamo c'è un sinistra-destra sinistra-destra dritto-sinistra e saluto a torso con capriola finale non te da scordare gli ultimi istanti batteria al 6% se non fai video stavolta si cambia tele si cambia marchio ci siamo 42 iscritto ed è un gran tempo iscritto come va lui accende il pubblico e adesso i palloncini ma trappo finale qual è il corso? eccoli qua fermi là via velocemente come sono stati come sono stati i nostri pesmakers no 45 46 46 è preciso eh 46 vai a prima la rifarei subito gira gira mamma mia ha girato grazie prego 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 ha girato ha girato ha girato grazie 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 a tutti Grazie a tutti